Un souvenir fai da te per portare via un ricordo della città di Bari e l'obiettivo dei laboratori di San Nicola, iniziativa lanciata da Spacca Bari, nella bottega qualche metro dalla cattedrale, sede dell'associazione culturale, è possibile personalizzare una piccola ampolla con l'immagine del santo patrono barese. Turisti ma anche tanti cittadini curiosi vengono affiancati da esperti artigiani come Pino Potenzieri e Sabina Pedone. Armati di pennello e forbici seguono passo dopo passo il processo che porta alla creazione del souvenir. L'iniziativa sta riscuotendo un grande successo a tal punto che la bottega di Spacca Bari è diventata una delle tappe fisse di alcuni tour operator che accompagnano i turisti in città. Loro sono molto entusiasti di realizzare una bottiglia dedicata al nostro patrono San Nicola e quindi si mettono con gioia a realizzarla e alla fine poi dopo sono molto contenti di aver realizzato con le loro mani un souvenir. L'associazione famosa per i presepi e per la mostra nel fortino di Sant'Antonio ha deciso di arricchire la propria offerta con i laboratori riservati ai turisti. Per partecipare non sono richieste particolari abilità manuali ma soltanto la voglia di mettere in movimento la propria creatività. Nel mese di maggio è in programma un flash mob per trasformare Piazza dell'Odegitria in un laboratorio a cielo aperto. Il primo maggio faremo un laboratorio a cielo aperto, un flash mob, quindi arriveranno centinaia e centinaia di turisti che tutti insieme con i tavoli a centro della cattedrale Piazza dell'Odegitria e il primo maggio si farà un laboratorio a cielo aperto per tutti i turisti che vogliano venire, totalmente gratis. Grazie a tutti.